Musica Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Torniamo a occuparci del caso della Villa Frattura perché sono molte le reazioni politiche anche all'interno della stessa maggioranza. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto al governatore di fare chiarezza durissimo il parlamentare Danilo Leva. Secondo il quale sono state tradite le attese dei molisani. Sentiamo Giovanni Di Tota. E alla fine anche la politica si accorse del caso della Villa al Mare del presidente Frattura. Ovviamente vista da destra e vista da sinistra come analizzava gli episodi una vecchia rubrica satirica. I teorici della democrazia sul web, quelli del Movimento 5 Stelle, lo hanno fatto via Facebook. Antonio Federico, che rappresenta il gruppo in consiglio regionale, ha chiesto al governatore di fare chiarezza. L'indignazione scattata tra i molisani dopo l'ennesima pessima figura rimediata in tv, ha scritto Federico, impone di chiedere a gran voce che Frattura faccia chiarezza sull'intera vicenda senza trincerarsi, ha aggiunto il collega di Palazzo Moffa, nell'orgoglio o, peggio ancora, nel silenzio. Le due puntate delle Iene, va detto, hanno peraltro dimostrato che il governatore non ha avuto timore di rimanere in silenzio, negando anche l'evidenza, e ha fatto orgoglio mettendo la sua faccia su una figuraccia che, di colpo, ha cancellato l'esilarante telefonata di Facciolla al fido collaboratore Vincenzo, diventato, in un battito di ciglia, il portaborse più famoso d'Italia. Federico ha poi preso coraggio, se si dovesse misurare la sua adeguatezza e autorevolezza nel gestire la cosa pubblica come gestisce la casa privata, aggiunto riferendosi a Frattura, non ci sarebbe alternativa alle dimissioni. Carezze, quelle del 5 Stelle, se paragonate a ciò che ha detto il deputato del Partito Democratico, Danilo Leva, amareggiato, ha scritto anche lui in rete, dopo aver combattuto per archiviare l'esperienza del governo di centrodestra, legami di gran lunga peggiori, espressione di uno stile, ha aggiunto Leva, che non ha nulla a che vedere con i valori del centrosinistra e con le aspettative che migliaia di cittadini avevano consegnato a Frattura. Un epitaffio, quello di Danilo Leva, che sancisce una spaccatura ormai difficile da ricomporre sul piano politico e una bocciatura di una stagione che sembrava dovesse segnare l'inversione di rotta. L'imbarazzo, ha rincarato il parlamentare, si trasforma in rabbia quando a essere minata è la credibilità di un'intera regione. Delle due l'una, la conclusione di Leva, o il presidente Frattura chiede a gran voce la punizione dei responsabili dei fatti avvenuti nella sua villa al mare, oppure la mancata reazione si traduce in un comportamento omissivo insostenibile, dato il ruolo e la funzione politica che ricopre. Un asteriscolo merita il comunicato di due righe dei consiglieri Offredi, Ciocca e Monaco. Non senza amarezza il loro commento registriamo che al confronto politico sui temi concreti, il Movimento 5 Stelle sta preferendo la polemica su aspetti personali. Dopo Iene e Sciacalli, la loro elegante conclusione, anche i grilli. Ciocca, Monaco e Ioffredi, con sprezzante sfregio del ridicolo, si sono firmati intergruppo, del quale in molti, moltissimi, sentivano la mancanza. Il Molise e i molisani non ne possono più il presidente. Renzi intervenga nel chiedere un passo indietro di Paolo Frattura, altrimenti anche la sua immagine, quella del premier, ne verrà irrimediabilmente compromessa. Così il senatore Ulisse Di Giacomo, coordinatore regionale del nuovo centrodestra, in una nota a proposito della vicenda della villa al mare del governatore. Ormai è uno stilicidio quotidiano, aggiunge sempre più frequentemente il Molise per le malefatte del presidente della regione. Viene sbeffeggiato e messo alla berlina da organi di informazione nazionale, con grave documento all'immagine e alla credibilità di questo territorio. La brutta storia della villa di Termoli continua, divenuta ormai per merito della trasmissione Le Iene, uno spot nazionale di protervia e prevaricazione nei confronti di due povere donne, di cui una ultraottantenne. Il segno che frattura, conclude Ulisse Di Giacomo, ha oltrepassato il limite della decenza istituzionale per molto meno. Marino si è dimesso da sindaco di Roma. Il viceministro alle infrastrutture Riccardo Nencini, intervenuto a Campobasso a un convegno organizzato dal Forum per il trasporto locale, ha confermato che il Frecciarossa fermerà a Termoli con il nuovo orario ferroviario di dicembre. Il 2016 sarà anche l'anno della metropolitana leggera, ha annunciato, ma il Movimento 5 Stelle ha manifestato contro i disagi quotidiani dei collegamenti con la capitale. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Il viceministro alle infrastrutture e nonché segretario nazionale del PSI Riccardo Nencini ha incontrato nella sala consigliare del Comune di Campobasso cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali, tra i quali il prefetto Francesco Paolo Di Menna, il questore Raffaele Pagano, l'assessore regionale ai trasporti per Paolo Nagni e il sindaco Antonio Battista, a fare gli onori di casa, il presidente del Forum per il trasporto locale, Filippo Poleggi, che ha organizzato l'iniziativa, e il segretario del PSI Marcello Miniscalco. Al centro del dibattito, le inefficienze del sistema di trasporto molisano, la viabilità e naturalmente la buona notizia della fermata a Termoli del Frecciarossa. Dunque Frecciarossa fermerà a Termoli? Beh, è stato un lavoro lungo, sinergico con parlamentari locali e ministero, però dicembre 2015 è confermato che Frecciarossa ferma a Termoli. A Termoli, pardon, a Termoli. E la situazione dei trasporti in Molise non è delle migliori, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti regionali e interregionali tra l'Italia? C'è un'altra buona notizia però, io capisco che Frecciarossa a Termoli faccia annegare tutte le altre, però da dicembre 2015 sarà attivo un altro servizio nuovo di collegamento con Roma, sono tre treni diesel e swift che collegheranno in maniera più completa, a campo basso, con la capitale. Tra gli investimenti previsti anche quello per la cosiddetta metropolitana leggera, Boiano-Matrice, che a dire il vero non rappresenta affatto una priorità per i molisani. L'accordo di programma siglato dalla regione Molise con Rete Ferrovia Italia, RFI, sapete cosa prevede, lo ricordo soltanto e lo sottolineo, prevede sia la parte della mobilità extraurbana sia della mobilità urbana tra Matrice, Campobasso e Boiano e sicuramente anche fra Boiano e Isernia. E quindi avremmo, non dico tutti i problemi risolti del Molise, non sarà così, però diamo con il 2015 e il 2016 una bella volta. All'ingresso del Comune alcuni cittadini e il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Simone Cretella, hanno manifestato pacificamente contro i frequenti disagi causati a chi viaggia in treno. Provi una volta a venire a Roma a Campobasso con il treno. Quando non devo andare a visitare il Sannio alluvionato volentieri? Esattamente, però venga col treno dal 21 bis, dal 21 bis, lo trovi il 21 bis? Il 21 bis prende il treno e viene a Campobasso con un'ora e mezza di ritardo. Vabbè, è giusto saperlo, un viceministro deve saperle certe cose. Abbiamo chiesto al viceministro Nencini se ha mai preso il treno Roma-Campobasso dal 21 bis. Lui giustamente non sa dove è il 21 bis, lo sanno solo i campobassani e non ha mai preso, lui ha viaggiato in macchina, in autobru probabilmente. È stato di fatto che chi è addetto alla gestione dei trasporti nazionali conosca il disagio che i campobassani e i molisani devono subire con un collegamento ormai veramente inaccettabile. Sabrina De Camillis, consulente dei ministri dell'interno Angelino Alfano e della Salute, Beatrice Lorenzin ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Letta, è stata rinviata a giudizio dal GUP del Tribunale di Campobasso Maria Libera, Rinaldi con l'accusa di peculato. La De Camillis, esponente del nuovo centrodestra, sarà processata in seguito all'inchiesta sulle spese dei gruppi consigliari alla regione Molise nella legislatura 2006-2011, inchiesta che l'ha coinvolta per il periodo durante il quale è stata consigliere regionale. Prima udienza il 3 febbraio all'ex sottosegretario, vengono contestate spese per 30.000 euro in questa vicenda. Non c'è reato e lo dimostrerò in dibattimento, ha detto l'avvocato Arturo Messere, che con Paolo Lanese difende l'esponente politico. La De Camillis non si è appropriata di nulla e comunque ci sono già state archiviazioni impostate sulle stesse situazioni contestate alla nostra assistita, quali pranzi o viaggi a Roma. a me pare, ha concluso Arturo Messere, che l'azione penale debba essere esercitata, come dice la nostra Costituzione, in modo obbligatorio e non discrezionale. L'imprenditore Camillo Colella è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di frode fiscale. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano gli è stata notificata dalla Guardia di Finanza. Sentiamo. Accusato di frode fiscale, è finito agli arresti domiciliari Camillo Colella, l'imprenditore isernino amministratore della fabbrica di acqua minerale Santa Croce a Canistro, in provincia dell'Aquila. Questa mattina i finanziari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano su richiesta della Procura della Repubblica. All'imprenditore delle acque sono stati inoltre sequestrati beni immobili e risorse finanziarie nella disponibilità dell'indagato per circa 13 milioni di euro. La Santa Croce era l'azienda che sponsorizzava la squadra di Serie B del Pescara Calcio, mentre da quest'anno è sponsor della squadra dell'Avezzano. Secondo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, per evitare le procedure di riscossione coattiva promosse da Equitalia, Colella avrebbe effettuato finanziamenti infragruppo in fruttiferi per importi considerevoli. Attraverso tali forme di finanziamento, la società veicolava le somme in altre imprese del gruppo senza pretenderne la restituzione, nell'intento di svuotare le casse della società abruzzese vanificando le aspettative del fisco. Per la procura abruzzese queste operazioni di svuotamento hanno influito sul grave stato di crisi dell'azienda di Acqua e di Canistro, che sarebbe stata man mano svuotata di risorse e di personale. Riguardo alle imputazioni contestate alle misure adottate dalla magistratura, è intervenuto Camillo Colella con una nota. Immediatamente verrà fatta chiarezza agli inquirenti in relazione agli addebiti mossi, ha detto in merito ai quali sarà dimostrato che l'azienda, nel proseguimento dell'inteso e radicale piano di ristrutturazione della sorgente Santa Croce S.P.A., iniziato con l'avvento della sua proprietà nel 2008, aveva messo in atto tutte le misure necessarie anche a ripianare l'esposizione debitoria nei confronti dell'erario. L'alternativa ha continuato Colella. Sarebbe stata la definitiva chiusura della società con gravi ripercussioni per le 78 maestranze per il territorio nel quale l'azienda opera ed è radicata, nonché per l'intero indotto a concluso. Torniamo a parlare di viabilità e disagi. L'attenzione è rivolta oggi alla superstrada che collega Campobasso a Foggia, dove a causa di una frana all'altezza del bivio di Pietra Catella, le condizioni del manto stradale sono molto critiche. Sulla questione è intervenuta anche Micaela Fanelli, sindaco di Riccia, che ha definito la situazione inaccettabile e si è detta pronta a intervenire. Sentiamo Silvia Valente. Strade sicure e viabilità senza disagi. Un sogno, quello degli automobilisti molisani, che sembra non avverarsi mai. Occhi puntati questa volta sulla superstrada 645 che collega Campobasso a Foggia. Una strada molto frequentata dai tanti pendolari che ogni giorno si recano dai comuni dell'Interland nel capoluogo. La situazione in cui versa la statale è decisamente preoccupante a causa di una frana che all'altezza del bivio di Pietra Catella ha peggiorato le già critiche condizioni del manto stradale compromesse dal 2011. Se la situazione peggiorasse e con la stagione invernale il pericolo è concreto, si rischierebbe di tagliare di netto i collegamenti tra due regioni, ha dichiarato Micaela Fanelli. Inoltre le famiglie a monte della frana corrono un serio pericolo di isolamento, ha aggiunto il sindaco di Riccia. Una situazione difficile che, come detto, va avanti dal 2011 e che, nonostante gli incontri fra comuni, cittadini ed enti e le tante promesse da parte della regione dell'ANAS, resta ancora critica, ha continuato la Fanelli. Servono interventi urgenti, come auspicato dai tanti residenti della zona. Questa situazione è una situazione problematica che si ripete da 20-30 anni. Ogni anno è la stessa problematica, buttano bidumi e non risolvono i problemi, in quanto i problemi si risolvono facendo una bonifica dell'area e di eseguire un viadotto, un piccolo viadotto. La strada è impercorribile, pericolosissima e quindi a questo punto bisogna intervenire con urgenza. Vi prego alle autorità della regione Molise di intervenire a più presto. In proposito, Micaela Fanelli ha annunciato che porterà in Consiglio Comunale una delibera che impegni l'ANAS in modo definitivo, invitando anche gli altri sindaci del comprensorio ad operare insieme per la difesa del territorio. Siamo pronti a tutto, ha concluso il primo cittadino di Riccia, anche ad andare a Roma, perché il pericolo è elevato e siamo certi che la regione sarà dalla nostra parte, anche per battere i pugni sui tavoli romani. La Polizia di Campobasso ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 31 anni tossicodipendente per ripetuti maltrattamenti in famiglia, lesioni e distorsione continuata nei confronti del padre. Dalla ricostruzione della squadra mobile, il giovane del capoluogo pretendeva di continuo soldi dal genitore, dai 20 ai 50 euro alla volta, per poter comprare la droga. La stessa mobile da tempo aveva ottenuto ed eseguito nei confronti del 31enne un provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia, un divieto di dimora a Campobasso, provvedimenti però che erano stati ripetutamente violati dall'uomo il quale continuava a maltrattare il padre, a chiedergli denaro, minacciandolo. Quest'ultimo alla fine ha trovato il coraggio di denunciare il figlio che è stato arrestato. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso, Maria Rosaria Rinaldi, su richiesta del PM Rossana Venditti. Entro il 20 novembre quasi 600 docenti molisani precari saranno immessi in ruolo. Si chiude così la terza fase del piano straordinario delle assunzioni previsto dalla riforma alla buona scuola varata dal governo Renzi. Ma non mancano le critiche dei sindacati. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Sono 569 i docenti molisani fino ad oggi precari che entro metà novembre saranno immessi in ruolo. È l'effetto della riforma del governo Renzi, la cosiddetta buona scuola che tante polemiche ha scatenato. L'ufficio scolastico regionale ha pubblicato la ripartizione dei posti destinati alla fase C, la terza ed ultima fase del piano straordinario di assunzioni. Dunque 569 le assunzioni, di cui 535 per il potenziamento dell'attività didattica, 34 per il sostegno. Entro il 20 novembre saranno assegnate le cattedre nelle scuole sulla base delle loro dimensioni e delle richieste che sono state presentate. In provincia di Campobasso è prevista l'assunzione di 133 insegnanti, 55 in quella di Isernia. Le emissioni in questione riguardano la scuola primaria. Per quella secondaria di primo grado, 45 docenti ne assunti negli istituti della provincia di Campobasso, 31 in quelli di Isernia. In relazione alle ripartizioni dei posti disponibili, ha fatto notare la CGL, spicca l'alto numero di docenti di educazione artistica e di inglese, a fronte di nessuna assunzione per gli insegnanti di matematica. 208 infine sono le assunzioni per la scuola secondaria di secondo grado in provincia di Campobasso, 63 in quella di Isernia. In ogni caso, ha commentato il sindacato, si ha l'impressione che i posti attribuiti per il potenziamento dipendano solo in minima parte dalle richieste e dalle esigenze espresse dalle scuole, essendo quasi pari alle domande presentate dai docenti. Ora il compito più difficile spetterà alle istituzioni scolastiche, ha proseguito la CGL. occorrerà utilizzare gli insegnanti per incrementare e potenziare realmente l'offerta formativa, programmando in maniera collegiale e utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalle norme dell'autonomia scolastica. Ci opporremo a scelte diverse che mirano ad utilizzare i neoassunti per fare supplenze e sostituire i colleghi assenti, ha concluso il sindacato. Intanto l'ANIEF, l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori del Molise, ha contestato la procedura seguita dall'Ufficio Scolastico Regionale per la mobilità del personale ATA, una procedura che, secondo il sindacato, è stata viziata dalla mancanza di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa. Vigileremo per individuare le responsabilità, ma soprattutto per tutelare tutto il personale del comparto scuola. Ha concluso l'ANIEF Molise. Tentato furto al bar della stazione di Campobasso, malviventi sono riusciti a entrare di notte nel bar Aprendola, porta con un piede di porco. Una volta all'interno hanno fatto razzia di sigarette, di gratta e vince, oltre ai soldi presi dalle slot machine e dalle macchine cambia soldi. Un dipendente delle ferrovie dello Stato di turno, in quel momento insospettito da alcuni rumori, ha chiamato la polizia, che è immediatamente intervenuta. I ladri sono riusciti però a scappare. A pochi metri dal luogo del furto, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutta la refurtiva per un valore di circa 20 mila euro, abbandonata dai malviventi durante la fuga. Le sigarette in un bidone della spazzatura, mentre in uno zaino i gratta e vinci e i soldi. La polizia sta cercando di identificare gli autori del colpo. La notte scorsa, invece, gli agenti dell'Istituto di Vigilanza Metropol, coordinati da Piero Cellitti, hanno sventato ben due furti nel nucleo industriale di Pozzilli. Alla Comag, l'agente di turno ha messo in fuga i malviventi, che avevano già aperto il tombino e avevano predisposto il tutto per trafugare i cavi di rame. Alla Alinov, invece, i ladri avevano nascosto all'interno del capannone un camion, tutti i ferri del mestiere per ripulire dal rame il complesso. Ma anche qui l'intervento della Metropol è stato tempestivo e evitato il furto programmato. Oggi, festa delle Forze Armate dell'Unità Nazionale, cerimoni a Campobasso. Forze Armate è stato ribadito, presidi di sicurezza e legalità a fianco dei cittadini. Sentiamo. 97 anni fa, la fine della Prima Guerra Mondiale, si completava l'Unità Nazionale, che oggi è stata celebrata in tutta Italia insieme alla Festa delle Forze Armate. A Campobasso, dopo il corteo lungo il corso, schierati in piazza della Vittoria Carabinieri, militari dell'esercito, finanzieri uomini della Capitaneria di Porto, ma anche forze non armate e la polizia con i suoi vertici. Presenti autorità civili e politiche. L'alzabandiera solenne, il tributo alla memoria dei caduti, con la deposizione delle corone dall'oro davanti al monumento. Una bandiera italiana è stata consegnata alla scuola che porta il nome di Leopoldo Montini, medaglia d'oro al valor militare. La lettura poi dei messaggi del Capo dello Stato, Mattarella, e del Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, che hanno espresso la gratitudine per quanto fanno quotidianamente le forze militari, presidi di sicurezza e legalità sul territorio al fianco dei cittadini. Innanzitutto è una giornata della memoria, nella quale dobbiamo ricordare il sacrificio di quanti sono deceduti, hanno dato la vita e si sono sacrificati per questa unità d'Italia. Oggi è una giornata della gratitudine nei confronti di queste persone, ma nei confronti delle forze armate, per quello che stanno facendo, per quello che hanno fatto e per quello che faranno. Ed oggi è anche una giornata di festa, perché si festeggia l'unità d'Italia. È una solennità che va festeggiata gioiosamente. E questo è il senso di questa cerimonia. Gli interventi del sindaco di Campobasso Battista del Presidente della Provincia, De Matteis del Governatore Frattura, e di un rappresentante di associazione combattentistica e d'arma, oggi a Roma ha presentato un progetto di diffusione della legalità tra i giovani promosso dall'Arma dei Carabinieri e dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. Nei giovani investiamo tutti, non solo l'Arma dei Carabinieri, tutte le forze armate, tant'è che è previsto un ciclo di conferenze proprio nelle scuole che si produrrà fino alla fine del corrente anno scolastico. Noi assicuriamo sicurezza non solo sul territorio interno, ma anche su quello estero, dove cerchiamo di diffondere i valori della pace, i valori in cui noi crediamo e che riteniamo debbano assolutamente caratterizzare tutte le popolazioni mondiali. Il nostro personale, in aderenza ai dettami del vertice politico, opera sia sul territorio nazionale sia all'estero con grande professionalità, con grande impegno, senza nulla da invidiare agli altri paesi, anzi facendosi apprezzare sempre di più per l'opera svolta in maniera semplicemente incomiabile. Caserme aperte al pubblico a Campobasso, Iserni e Termoli oggi nel capoluogo stand informativi in piazza Vittorio Emanuele II di ciascuna Forza Armata e della Finanza. È stato investito da un'auto mentre passeggiava insieme a un amico lungo via Corsica a Termoli nell'impatto il giovane migrante di nazionalità pakistana ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato all'ospedale Santimoteo per gli accertamenti. A bordo della Renault Twingo c'era una donna di circa 50 anni che si è fermata e ha prestato i primi soccorsi. Il 32enne, ospite di un centro di accoglienza di Campomarino, non ha perso conoscenze ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti 118, la Misericordia e i carabinieri della Compagnia Adriatica. La FIOM si prepara all'incontro con Federmeccanica per avviare la negoziazione sul contratto. Intanto chiede più democrazia in Fiat e denuncia un minimo in busta paga dei lavoratori inferiori agli operai delle altre aziende. Sentiamo Manuela Iorio. La FIOM torna a fare il punto sulla situazione Fiat in Italia a Termoli alla vigilia del vertice con Federmeccanica previsto il 5 novembre per l'avvio del negoziato per il contratto collettivo nazionale. Michele Di Palma nella sede della CGL ha presentato la piattaforma che sottoporrà in sede di contrattazione e in cui si rivendica maggiore democrazia all'interno dell'azienda e chiedendosi come sia possibile che FCA negli Stati Uniti negozia con i sindacati e gli accordi vengano sottoposti al parere dei lavoratori con un vero e proprio referendum e invece in Italia la politica interna adottata sia opposta. La verità, detto Di Palma, è che qui decide l'azienda e basta che di recente ha inserito 20 turni e le modifiche al diritto di sciopero senza contrapposizioni. Nella piattaforma verrà inoltre chiesto che i minimi contrattuali siano fissati per legge visto che stando al contratto specifico i lavoratori Fiat guadagnano 76 euro lord e meno rispetto ai colleghi con contratto Federmeccanica. Noi ci siamo presentati al tavolo nazionale a Torino qualche mese fa dicendo che c'è una differenza per noi calcolata di 76 euro lordi e questa differenza tra un lavoratore di Fiat e un lavoratore di Federmeccanica è una differenza che rischia di aumentare nel corso del prossimo futuro perché siccome siamo in una fase del rinnovo del contratto di Federmeccanica nel prossimo futuro un lavoratore Fiat avrà molti meno soldi di quanti ne hanno tutti gli altri. Quindi noi la prima cosa che abbiamo chiesto era di avere invece un salario uguale in paga base ai lavoratori di Federmeccanica. Hanno chiesto le altre organizzazioni sindacali per il rinnovo in Federmeccanica 105 euro. Fate un conto, 105 più 76. Questa sarebbe la differenza che ci sarebbe tra un lavoratore Fiat e tutti gli altri. E sulle recenti assunzioni allo stabilimento di Termoli di Parma sostiene che siano ancora poche se si pensa che dal 2008 sono 800 i lavoratori andati via tra pensionamenti e altro e non rimpiazzati. E poi aggiunge avremmo preferito che fossero contratti a tempo indeterminato. E nonostante il difficile rapporto di Fiat con la FIOM il sindacato della CGL resta il primo per iscritti in tutti gli stabilimenti italiani compreso Termoli è per questo che si chiede un cambio di passo. Noi pensiamo che ce ne sia bisogno perché le sfide che ci sono in particolare nel mondo dell'auto sono sempre più complicate la competizione è sempre più forte. C'è bisogno di costruire un sistema partecipativo vero basta con i tavoli separati in cui ci sono le altre organizzazioni e la FIOM dall'altro lato e nell'interesse dei lavoratori e dell'azienda il fatto che ci siano nuove occupati. E la FIOM insieme alla CGL ha indetto per sabato 21 novembre a Roma una manifestazione nazionale contro la legge di stabilità del governo un appuntamento in cui rivendicare anche i propri diritti contrattuali. Lamente le proteste per i ritardi nella campagna di vaccinazioni anti-influenzali nel distretto sanitario di Isernia le disfunzioni vengono denunciate nella comunicazione del servizio sanitario ai medici responsabili delle zone di Isernia Venafro e Frosolone infatti solo il 26 ottobre è stata indetta la riunione organizzativa procurando così un notevole ritardo nella distribuzione dei vaccini Buone notizie per i malati di diabete di Isernia e dei paesi vicini dopo mesi di proteste e battaglie il servizio di assistenza è stato riattivato Sentiamo Sergio Di Vincenzo Per tanti lunghissimi mesi la chiusura del servizio di diabetologia al Veneziale di Isernia ha creato notevoli disagi agli utenti centinaia di persone sono state costrette nella migliore delle ipotesi a rivolgersi agli ospedali più vicini mentre qualcuno è dovuto arrivare fino a San Giovanni Rotondo ma ora l'incubo è finito le sollecitazioni e le battaglie della FAN dalla Federazione dei Diabetici condotte a ogni livello hanno dato i risultati sperati da ora in poi per due volte alla settimana sarà di nuovo possibile rivolgersi all'ospedale di Isernia Il servizio è già riattivato è venuto ci hanno assegnato un medico diabetologo che già lavorava nella zona l'hanno assegnato anche a Isernia e si praticherà questo servizio presso il distretto di Isernia cioè il vecchio ospedale è già in funzione già da ieri solo che adesso si attendono le prenotazioni da parte dei pazienti ci stiamo organizzando perché anche logisticamente per esempio è difficile anche reperire i locali il personale che gli serve per operare infermieri podologhi eccetera comunque lui si sta organizzando in vista di insomma di operare bene a Isernia allora l'appello che noi facciamo a tutti i pazienti è quello di prenotarsi per andare a visita a Isernia presso l'ospedale vecchio l'associazione dei diabetici le ha approvate tutte pur di riottenere un servizio essenziale per centinaia di cittadini in pochi giorni erano state raccolte anche 800 firme poi lieto fine per certi versi inatteso la battaglia è stata diciamo sì condotta proprio con la passione di risolvere il problema noi in cinque sedute abbiamo raccorto circa 800 firme il presidente un po' scoraggiato per le molteplici diciamo sì richieste agli enti istituzionali non hanno avuto mai la risposta a tutt'oggi dal mese di settembre non abbiamo ricevuto nessuna risposta io per puro caso stavo preparando una protesta eclatante allora mi sono rivolto all'ASRI e via così ufficiosa mi hanno detto che il servizio diabetologia stava per essere aperto due giorni alla settimana ringrazio prima di tutto i cittadini che ci hanno sostenuto nella raccolta del firme ma in particolar modo la stamba solo la stamba i politici pensano soltanto alla spartizione delle poltrone non pensano alla salute dei cittadini molisani Lettere dal fronte 1915-1918 la prima guerra mondiale raccontata dai combattenti e l'iniziativa è resita ideato e curato da Franco De Santis che si terrà domani alle 17.30 nella sala consigliare del comune di Campobasso nell'ambito delle manifestazioni per il centenario della grande guerra le letture saranno di Aldo Gioia e Francesco Vitale alla chitarra Enrico Varriano voce Alessia D'Alessandro è tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti